Eccoci qui, buongiorno a tutti ragazzi, direttamente da House of Bikers Presentazione dell'ultima arrivata qui a House of Bikers La meravigliosissima e strepitosissima Yamaha TDR 250 Due tempi, ragazzi, moto molto molto rara Moto che è stata prodotta e costruita dal 1987 fino al 1993 Moto bicilindrico due tempi, motore derivato dalla mitica Yamaha TZR 250 due tempi Ovviamente con un'idea di progettazione per portare a un divertimento puro su strada Di queste mitiche due tempi di questi anni Dove sono state apportate svariate modifiche nelle rapportature, parte termiche e quant'altro Per rendere la moto estremamente godibile su ogni aspetto Telaio costruito ad hoc e progettato per questa moto Per poter portare un divertimento assoluto su strada Quindi pneumatici, sospensioni, ogni cosa è stata messa al suo posto Quindi moto semplicemente meravigliosa E abbiamo un esemplare in vendita che è spettacolare 7.097 km, solo tre proprietari Moto iscritta già FMI Moto pronta all'uso senza dover fare nulla Moto, ripeto, molto molto rara Perché moto che erano state create anche per un discorso di mercato interno Soprattutto giapponese E ha avuto un successo molto molto grande Soprattutto in Francia Dove addirittura in quegli anni Fu anche istituito un campionato monomarca Per queste moto Dove praticamente Si è aperto il mercato e il varco Delle mitiche super motard Che oggi vanno tanto di moda Quindi ragazzi abbiamo Semplicemente davanti Un esemplare che ha fatto la storia Un esemplare che ha aperto il mondo Delle due tempi super motard E che ha fatto scuola per tutto il futuro successivo Per le moto di divertimento su strada Ragazzi moto disponibile alla House of Bikers 8.000 euro Più passaggi di proprietà Moto pronta e disponibile per voi Ciao a tutti